Sabato prossimo alle 20.15 si alzerà ufficialmente il sipario sulla stagione 2018-2019 del Pistoia Basket. Giocatori e staff tecnico saranno infatti presentati agli sportivi pistoiesi in occasione della gara fra i Biancorossi e la GSA Udine, formazione di Lega 2, valevole per il secondo Memorial Matteo Bertolazzi, torneo Città di Pistoia. Nella stessa serata quindi il Palacarrara sarà a teatro del doppio evento. La sfilata della squadra, dovrebbe mancare solo il cieco Auda, ancora impegnato con la sua nazionale per quanto riguarda le qualificazioni mondiali, e la prima sfida del nuovo anno agonistico sul parquet di Via Fermi. Un bel test match che arriva dopo lo scrimmage di Ponte Bugianese con Piombino, formazione di Serie B, e dopo il torneo Carlo Rovari che si è disputato a Lucca e che ha visto i Biancorossi alla fine terzi, protagonisti di due prove più che positive contro Venezia e Torino. Per il confronto con i friulani ci sarà da pagare un biglietto unico di 10 euro. L'incasso però sarà interamente devoluto all'associazione benefica 7 for you, dedicata alla memoria dell'indimenticabile Capitan Bertolazzi.